E' outside, come dire, all'esterno, qualcuno che viene da un altro posto, qualcuno che guarda la situazione da un altro punto di vista. E la molte volte ci facciamo troppo coinvolgere da quello che vediamo all'interno e invece ci dimentichiamo del quale insieme. E' molto molto importante guardare le cose al di fuori e quindi maledichiamo un po' a noi stessi che forse un po' non siamo così. E' anche voi che siete qua stasera che ci siete stati da ascoltare. Siamo tutti un po' outside. Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno.